Allora, allora io pulisco avanti, dai tito. Marco, tutti li punti ovunque. Eh? Hai bisogno? Tutti li punti ovunque di Gia, guarda te. Ma dobbiamo pulire tutto. Penso che si rompa comunque, sai? Non ci ho provato. Ecco qui. Allora, allora, amici. Bentrovanti su Viscera, è un sacco di tempo che non facciamo le cose. Ma fatti, cosa fai a scopo, cosa fai? Allora, amici, vi faccio vedere, innanzitutto, Filippo. Filippo adesso... Filippo che bisogna mettere nell'utilità rifiuti. Dammi, dammi. Dov'è l'utilità rifiuti? Voi vi ricordate? Cazzurina, vi ricordate? È la prima volta che faccio sta mappa. Imbecine. Vi ricordate? Ah no, eccolo Filippo. Hai perso, Filippo hai perso. Questo è Filippo, perché tagliato metà. Ma c'è un tentacolo. Vabbè, puliamo noi. Dov'è fa domande, Morelli? Quanto lontano posso fare? Oh, affangulo. Ragazzi, mi si è spaccato Filippo. Ma ne frega una sega di Filippo. Aspetta, Marco, dammi, ci pensi di Filippo. Dammi, Filippo. Metto qua. Ah, bravo. Dai, Morelli, è inciso! Bruciate, bruciate! Morelli, mi hai ucciso! Come l'ho ucciso? Ho incetti anni adesso, ma perché incetti anni? Ma sei giovanissimo! Ma non posso trovare incetti anni? Ma questa roba è che si bangano tutte e fanno un casino nelle mie orecchie. È terribile. Marco, mi hai ucciso! Ma come ho fatto? Mi hai vestito, mi hai! Mi hai vestito fortissimo. Ma non ho messo il secchio, no! Ma Marco, c'era un secchio? Ma perché è tutto nero? Ma perché è tutto nero? Adesso ho molti meno anni, almeno. Eh, non riesco a prendere le monelli, però. Ma sia roba, eh! Ah, 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 ah! Sono bloccato! Morelli? Che? Dove sei? Ho un problema. Mi sono incastrato. Ma si può passare qua? Mi sono incastrato. Ok. Allora, dicevo, noi siamo esperti ormai di questo gioco. Partiamo d'accordo. E come esperti, bisogna iniziare a buttare via tutto il superfluo. Incenerire, incenerire all. Tutto, all. All the small things. Anche i proiettili qui. Questo adesso, aspetta, eh. Aspetta, ti ho messo. Tutto, tutto. Ma Esprit, come pretendi? Aspetta. No, Esprit, devi prendere la pistola quella che mandava in poltiglia e rimpicciolirlo. La vado a cercare, aspetta. Però io ho messo oggi, non c'ho voglia di dare lo straccio. No, Moro. Eh, ci hanno pagato. Non è vero. Sai chi ci ha pagato oggi? Chi? Schultz. Chi? Schultz. Chi? Si chiama Schultz McCoffee. Morelli, che paura che mi stai mettendo. Morelli, bruci tutto. Hai bruciato? Morelli, brucio anch'io. Bravo, Moro. Lo busto via ora. Moro, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Moro. Moro, ormai... Moro, basta! Basta! Marco! Morelli! Non riesco più a fermarmi. Aspetta, tranquillo. Non riesco più a fermarmi. Vabbè, amici. E' mazzarlo. E' mazzito. E' mazzito. Fermano! Quando potete più fermare... Fermano! Vincenerisco le cose che tenete in mano. Ah, è sparito! Sapete che sono bravo a tirare le cose. Schiaccio del... Qua, Morelli! Stai fermo, scemo! Aspetta! Devo bruciare le cose! Aspetta, è un tuo amico? Si! Ah miseria! Marelli! Ah! Amici, guarda, sono bravissimo! Guarda però com'è tutto più vuoto adesso, eh! Ma ti svuoto la testa! Ma infatti, sei stato bravo, Moro. Però adesso dobbiamo pulire tutto il nero che hai... Si! Come si da? Ma, Morelli! Mi hai rovesci... Mi hai rovesciato il secchio! E mi fai pure le battute del cacchio! Scusa! Guarda, guarda che schifo! Ma fa lo stesso ma che puliamo subito, guarda! No, ci serve un altro secchio! E prima togliamo Cthulhu, va! Allora, come si pulisce bene? Sono ancora dei pezzi di Cthulhu qui! Questi hanno ucciso Cthulhu, poi hanno detto Ma si, facciamoci una coca-cola e un paio di patatini! Facciamoci una coca-cola! Moro, hai fatto una torta di cacca? Ma ti facciamoci! Ma dai, Cthulhu! Adesso l'altro... Ma sei scemo, Marco! Questo aveva un fungo, cos'è? Eh, avete bruciato i fattori, eh già! Tre proiettili! Quattro proiettili! Non si è aperta con l'inceneritore! Eh beh, sei proiettili! C'è lo straccio che sembra la faccia di Zoiberg! Chi? Zoiberg, Futurama, l'hai visto? No, Marco! Comment! Ma noi stiamo facendo un video con uno che non ha visto Futurama! Non è che Scrums ho visto, Marco, guarda! Comment! Io mi fermo qua! Vabbè! Marco, mi fa schifo pure il basket, guarda! È merissimo, aspetta! Eh, vabbè! Anche One Piece mi fa schifo, Marco! Va bene, aspetta! Allora, disiscrivetevi, non voglio avervi più tra i piedi iscritti! Guarda! Cos'è tra gli iscritti? Scusa! Perché non si meritano questo trattamento! Non farlo! Efficiente! Vabbè, tanto lì dobbiamo pulire lo stesso! Aia! Vabbè, ti sta! Vabbè, ti sta! Vabbè, ti sta! Vabbè, ti sta! Moro, tu hai finito di... Mi sa di no! Allora, fammi fare... Vabbè, lì, ho dal cavo ti facendo in fondo! Fammi... Fammi mettere... Mio Dio, non ho mai visto un posto così sporco, Moro! Ah, aspetta, aspetta! Aspetta, aspetta! No, no, non serve! Basta, basta, basta! Allora... Come non serve? No, no, no! Mettiamo le lattine qua dentro! Basta, sono appena in USB! Aspetta! Ma no, ci serve! Ah, questo! E niente! Moro, aspetta! Allora... Questo lo metto qua! Penso io, eh! Questo lo metto qua! No, basta! Ti tirano sulla cacca da lì! Che avete messo un secchio qua? Posso sapere? Il mio secchio, Marco! Bastardo, scusa! È un secchio, cosa lo uso? Allora, Marco, secondo te... Ah, guarda qui! Allora, Marco, questo secchio adesso... Ti è in questo secchio! Grazie, è molto gentile! Lo posso usare per pulire qualcosa... Esprit, tu devi lavorare in fabbrica 27 ore al giorno, guarda! No! Questo ti meriteresti tu! Non possibile! Così capisci il sacrificio! Va bene, Esprit, puliscimi! Anche dietro, per favore! Aspetta! Grazie, sì! Ah, così! Ah, così! Quanto mi piace, Esprit, ancora! E come? Eh, vabbè, mi piace... Sono 50 euro, in caso! È piacere... Ma me ne devi... Tu 600 perché sto pulendo... Ogni due secondi ti dici... Ti do 50 euro, ti do 60 euro! Ah, stai secchio! Ah, stai secchio! Fai, Esprit, sei un papà! Dai! No! Eh, fra un po'... Pulerai anche te! Pulerai o pulirai? Non ho capito! Pulerai o pulirai? Pulirai e copulirai! Copulirai! Copulirai? Noi scopuliamo insieme! Ahahahah! È vero! Copuliamo insieme! Ah, smettimelo il mio secchio! Prendi il tuo secchio! Ma pestezza! Ma perché l'hai rovecciata? Ma hai spretto? Perché tu devi avere i pinocchietti all'altezza pene? Ma guarda che schifo! Ma che pulisci con noi? Io so che non vuoi lavorare però... Ma te l'ho ribaltato un secchio? No, 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 è soltanto... Farlo! No, il merdone no! Ah, non l'ho fatto cadere! Questo è vuoto! Ma quanto nero qui! Guarda che macene! Si può sporcare per il sole! Ma perché avete passato con i piedi? Sì! Ma caccami! Ma io l'ho fatto secchio! Guardate che tamaro delle giostre, Esprit! Tanto, Esprit, vuoi sapere una cosa bella? Vai! Esprit, mi fai un favore? No! Li portiamo in auji quack? Vabbè... Lo rimetti, per favore? Quindi posso dire... Ma dai, no! Che si capisce più! Ma dai! Non puoi dirlo! Non puoi dirlo quello lì! Si è detto che qua ti possiamo fare quel che vuoi! No! Quello bisogna tagliarlo! Però quando diciamo queste cose... Ma avete già finito i secchi! Ma non è possibile! Eh, Moro, ma sai che siamo produttivi! Ma dai! Tanto vogliamo riportare in augeo! Ho capito! Ma diciamo altre cose! Non queste cose valmiate! Sono vuote queste! Prendi il muro! Ma questi sono... Ma che fai? Ma quello è pieno eh! Marco morto! Devi buttare quelli murati! E tu è morto! Ma com'è fatto a morire? Ma non è possibile, scusami! Eh, ci sono un milionarende, Marco! L'ho avuto in certi anni! Ma avete dato il cappello, Marco! Ma cosa dici? Marco, la testa è stato via! Ma scusa! Ma che dice questo? Non so che succede! Che succede! Niente! Ma che schifo! No, viene fuori la merda! Sei un bastardo! Sei un bastardo! Ma il trucco è non farla toccare per te il respiro! Eh... Vecchi tu che hai il mestiere qua! Ma infatti ormai... C'è dopo anni e anni di pulizie! Ma infatti... Ma un altro piede! Ma allora sei un bastardo! No! Il filetto ha toccato per terra! No! Me l'hai buttato per terra! Amici, butto il secchio! Spostatemi! Marco non è... No! Ma sono appena arrivato! Ancora in forma! Non si che ho portato! Che è meglio! Porto via che è già pieno di cacca! Ma io lo stavo facendo! Marco! Ti diamo una mano! Grazie! Ma non è vero! Io sono una persona estremamente igienica! Ma difficile! Mi ha spinto! Chi è che ti ha spinto? Non so! Ho fatto un passo lungo 3 km! E poi mi ha spinto! Esprit, tu devi sapere che io sono una persona estremamente igienica! Quando faccio i peti te li butto tutti addosso con le mani! Aia! Ma questo è vuoto! Sì, questo è vuoto! Me ne faccio, me lo mangio! Scusi! Sono fortissime! Qua, qua! Qua è sporco da qualche parte! Tu rispondi a te! Qua è sporchissimo! Nel corridoio! Ah, il secchio! È il secchio che è sporco, sì! Ma che schifo! Portamelo via, Esprit! Marco, portamelo via, Marco! Marco, portamelo via, Esprit! No, portamelo via, Esprit! Portamelo via, Amoro! Sto strecco la barca! Stai lì? Molto bene! Allora... Ehm... Abbiamo... Direi che abbiamo vi... No, mi sto guardando un video di Favij! Posso vedere anch'io? Aspetta, qua c'è qualcosa di sporco, eh! No! Dov'è che impazzisce? Ah, dobbiamo pulire bene la fornace, certo! Mi sembra ovvio! Ah dai! Si puliscono io la fornace! Ma no! 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 Si sporca! Dai... Bruci così! Questo è pazzo! No! Ma sarei creativo! Ma questo è scemo! Ammazziamolo! No! Deficente! Dai tranquillo! Ammazzalo, Amoro! Questo è continuo! No! No! Ha preso tutto fuoco! Ha preso tutto fuoco! Perché? Perché? Esprit! Io si ti odio! Sei veramente fatto di cane! Eh, sei posto! Ma adesso è posto! Marco, tranquillo! Marco, metti giù con lo scopettone! Marco! Ti affeggia, altro che metti giù con lo scopettone! Marco, apri la fornace! Apri la fornace! Apri la fornace! Apri la fornace! Non me! La fornace! Bravo! Butto anche questo! Dov'è? Amici! 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 Abbiamo fatto! Le pulizie! Ma sei danno anche tu Morelli comunque! Come? Tu! Gli voci! Adesso vado a timbrare il cartellino! Guarda! Amici! Direi che siamo Fantaghiro! 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 Alteromo Aldo! Sulla strada! Sono da solo in ufficio! Ecco no! Gusti busti! Siamo insieme in ufficio! E' affatto! Esprit! Esprit! Ciancati con me! Ciancati Esprit! Ahia! Vai Esprit! Balla!